Alla biblioteca regionale di Palermo un gruppo di circa 20 lavoratori che da tanti anni prestano servizio qui si trovano adesso a vivere una situazione paradossale, non sanno cosa sarà del loro futuro. Come inizia la vostra storia qui? La nostra storia inizia con un inserimento nei piani professionali nel novembre del 2001, successivamente veniamo inseriti nel mondo del lavoro con vari contratti che si rinnovano di mesi in mesi, fino ad arrivare al 2010 dove in una finanziaria del precedente governo ci viene riconosciuto il diritto di lavoratori e quindi veniamo inseriti in una società Ollus dove ci viene fatto un contratto a tempo indeterminato. Da questo momento in poi pensavamo che tutto sia finito, sia cambiato per noi, che potevamo ambire a una situazione lavorativa un po' migliore di quella che avevamo vissuto fino ad allora, dove cominciamo ad avere un riconoscimento di lavoratori e una parte di contributi versati. Successivamente alla nuova finanziaria, all'insediamento del nuovo governo, tutto ciò viene a finire, è come una bolla di sapone che ad un tratto scoppia e ci ritroviamo in mezzo alla strada. Ci ritroviamo in mezzo alla strada costretti purtroppo a lavorare sotto indennità di disoccupazione, ma nonostante questo continuiamo a prestare il nostro servizio presso gli enti e ci ritroviamo a lavorare in una situazione anche indefinita perché non ci riteniamo né dei lavoratori né tantomeno dei sussidiati. Neanche noi sappiamo ad ora quale può essere la nostra situazione e il nostro futuro. Praticamente voi facevate parte della social Trinacria. Quali sono state le risposte che il governo regionale vi ha dato? Le risposte che il governo regionale ci ha dato è che la social Trinacria non poteva più esistere perché non aveva diritto di esistere, ma non l'avevamo creata noi, l'aveva creato un precedente governo, quindi per noi il fatto che non potesse esistere non avevamo colpe. Eravamo dei lavoratori, 2.800 persone, buttati in mezzo alla strada a lavorare con la disoccupazione. Cosa vi aspettate adesso dal governo regionale? Ma noi ci aspettiamo in questo momento dal governo regionale ben poco perché dopo le disfatte e le malefatte che abbiamo ricevuto in questo periodo non sappiamo più cosa aspettarci. Ma chiediamo quantomeno di avere riconosciuta la dignità di lavoratore. Non mi sembra una cosa dignitosa nei confronti di un lavoratore che regolarmente la mattina viene alle 7 e mezza, dobbiamo recuperare le malattie perché ci sono state tolte così per come ci sono state tolte le ferie. Noi svolgiamo un lavoro onesto come tutti gli altri e ci campiamo la famiglia, quindi essere attaccati per dei fannulloni o nulla facenti, questo non mi sta bene. Noi lavoriamo, facciamo sera al giorno, dobbiamo essere riconosciuti lavoratori. Noi 15 anni facciamo un percorso e ancora nessuno ci dice che siete lavoratori. Tre mesi senza stipendi e mi dica lei dove si devono andare a finire così. Faccio anche l'appello al dottore Crocetta, al governatore della Sicilia. Ma loro non lo stanno nella parte della legalità o no? Noi 15 anni facciamo un percorso e ancora nessuno ci dice che sono state tolte le ferie.